ciao a tutti nel video di oggi fedez prende lezioni di skateboard nel frattempo chiara torna a casa e finalmente si rilassa con fedez e leo che si diverte a fare delle pose a ridere con lei vi lascio al video buona visione non è visto questo balletto sembri l'esorcista esorcista che tuerca ma cosa stai facendo ciao vittoria ciao bellezza puoi parlare e cosa vi dici amici grazie per il primo posto di mille io festeggio facendo un po di skate come fanno i giovani di oggi prima di andare su questo si chiama calvare ok ora colpo in avanti resta col corpo in avanti resta col corpo in avanti anche un saltino ok è resta così molto bene la testa di lato qui la sotto a sua spalla vai più pensate lì bene via 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 caspita avrei proprio voglia di un buon gelato gelato proteico foodspring sempre con me no non ti azzardare che veramente titti no 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 non ci provare non me lo dire niente più no 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 non voglio sentirlo non voglio sentirlo lo chiudiamo con la con il cuore lo chiudiamo ma che col cuore lo chiudiamo gett'e il culo come sto tipo imparato Vanho non lo si però ma devo fare un po così o la sembra che io a me mi viene naturale no forse vuoi sarei in Mi sparo la seconda stagione di Celebrity Hunted. Sono curioso di vedere se qualcuno riuscirà a fare meglio di me e Luigi. Non lo so, sono curioso. Comunque raga, il mix Orietta Berti Achille Lauro Fedez è un bono pazzesco. Sono d'accordo. Sì? Sì. Grazie a tutti.